Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! E dopo qualche mese, magari mi ricomincio una partita nuova, vedo le nuove cose, più che altro vengono aggiunti pezzi, vengono aggiunte auto. È un gioco ancora abbastanza sullo sperimentale perché tante funzioni non sono ancora ufficiali e quando lo diventeranno il gioco acquisirà secondo me valore. Allora, al netto di, aspettate che metto via la roba, di un sistema di controllo che comunque è un po' simile a My Summer Car ma secondo me fatto meglio, meno complesso. Per certi aspetti perché comunque non ci sono le chiavi da selezionare per ogni vita insomma e così via, vabbè qua muove un po' come vuole. Sono arrivato al punto di avere abbastanza soldi per aggiornare la mia officina. Qua, infatti, spendendo 50.000 potete estendere il garage, ovviamente il gioco vi dice fare attenzione e devi avere tutto libero. Quindi io nel mentre vi parlo butto via tutto questo e vi dico anche i difetti che ho trovato al gioco. Attualmente uno dei difetti grandi che ho trovato è che i lavori da fare sono intriganti ma quello che paga di più è giustamente il più tedioso. Nel senso che per fare 50.000 io ho fatto, ho preso ripetutamente dei lavori di rimozione di ruggine e di verniciatura che sono arrivati a pagarmi addirittura anche 3, 4, 5, 6 mila dollari. Quindi questo fa perdere senso a tutti gli altri mini lavoretti. Quello che incolla allo schermo è, diciamo, la possibilità di crearvi voi la partita che volete. Nel senso che potete, in questo momento non ho un mezzo, posso comprarne uno usato e andare a rimetterlo a nuovo e farlo mio ed esplorare. Vi faccio vedere adesso qui nel catalogo ci sono una serie di auto, sono più auto, ed è stata aggiunta anche la moto. Una moto, una sorta di ciopera, tipo un Harley. E vabbè, adesso qua va bene, nevica e nevica e tra un po' verrà tutto circondato, avvolto dalla neve. Infatti inizia a prendere tutto e diventare tutto bianco. Quello che voglio fare ora è aggiornare. Ma intanto voglio farvi vedere una cosa. La mappa, vedete, la mappa è la solita, enorme. Non è vuota, ci sono dei negozi ogni tanto, dei distributori nelle città dove potete andare ad acquistare oggetti che magari non trovate nell'isola iniziale. Ma calcolate che tutto questo continente è sperimentale. Nel senso che nella partita lo potete disattivare, lo potete rigenerare. Diciamo che l'isola è questa principalmente. Altra cosa da dire, esiste un metodo di cominciare la partita sperimentale, che è quello che vi fa partire praticamente in una zona qua, al centro della mappa, in una casetta, in un cottage, con un piccolo garage. Un piccolo garage si intende una cosa del genere ma senza il sollevatore. Quindi avete giusto un ripiano e basta. E partite con 10.000 dollari. Se venite in città, questo è in vendita a 50.000. Quindi è un inizio proprio hardcore e il gioco ve lo dice. Non è adatto ai giocatori in uvizi. Io l'ho tentato, ho provato, mi ho detto voglio provare a vedere l'espansione del garage, quindi sarebbe stato troppo lungo dato che io ci ho già fatto, quando ho cominciato a giocarci, più di 40 ore sul gioco, ho detto no. Quello che vi faccio vedere ora, che è sempre il difetto del gioco che vi dicevo, vedete qui mi dice ti parlo 125, ma se io continuo a saltare arrivo a un punto in cui lui mi dirà, nuovamente, ripara la ruggine. Adesso vado avanti. Questi sono tutti intriganti come cose, soprattutto adrezzare le macchine, è abbastanza tosto come lavoro perché ci perdete tempo. Vedete qua non mi dice quant'è, io accetto e sarà 1000 o più. In questo caso ho 1400 e io vado a sverniciare l'auto della ruggine e a ripitturarla. E ci sono state auto dove ho dovuto proprio tagliare col flessibile e risaldare parti che se no non sarei stato in grado di riverniciare e grattare completamente. Ma ora andiamo ad acquistare l'espansione del garage e il garage è questo. Il garage è stato espanso, quindi ha molto più senso di prima, è stato inglobato all'interno anche questo, che è comodo comunque. Vabbè, qua intanto si vede ancora la traccia della neve perché nevicava e vabbè. Ora abbiamo il tastino qui che mi permette di sollevare... Ah no, di aprire questo perché questa è una figata, giusto. Potete mettere un'auto qui e andare sotto senza doverla sollevare, che è comodissimo come cosa. Poi abbiamo questo che dovrebbe aprire l'altra serranda e siamo pronti a ricominciare come dei signori, quindi possiamo rimettere a posto le varie cose e sistemarle. Tutto è qui, nel senso che poi non c'è molto altro da sbloccare qua. Infatti è sparita anche la bacheca, si è espanso tutto, però possiamo tenere più auto dentro qua parcheggiate. Ed è il bello del gioco, il bello che non c'è uno scopo finale, ma potete sognare di essere voi padroni di un'officina e di fare quello che volete. Volete mettere a posto tutte le auto, tutti i modelli che avete? Lo fate. Volete giocare appunto a fare il meccanico riparando roba per gli altri? Lo fate, fine. Questo è l'oggetto che serve per spostare i mobili. La scatola è molto utile, non c'era prima, mi pare, che è molto utile perché se comprate più cose ve le buttate tutte qua dentro. E finite lì. Adesso vi faccio vedere un'ultima cosa e adesso salvo ed esco perché voglio farvi vedere l'inizio sperimentale. Allora, iniziare un nuovo gioco, avete modo di scegliere la partita, scegliere se abilitare il cibo, le bevande, insomma il sonno, se voi non rispettate la fame, la sete, insomma il sonno, iniziate a camminare molto lentamente, perdete vita e appunto vi muovete molto lentamente. Disabilitare il taxi o attivarlo, se vi perdete, se volete recuperare l'auto, pagate e vi riporta a casa. La map extension è la mappa tutta estesa, quella esterna al mondo, e in questo caso la tengo attiva, e iniziare senza il garage, che non è raccomandato, come vi dicevo, per i nuovi giocatori, più che altro gli inesperti. Poi ho già fatto dei video su questo titolo, quindi magari se li volete vedere, ho fatto forse anche una o due live, e quindi se volete magari le basi o comunque anche in futuro, se vi va di vederlo nuovamente magari in live o con altri video, fatemi sapere. Non credo che questo succederà, che me lo chiederete, ma io la butto lì. Questa è la fase iniziale. Noi iniziamo da qui, abbiamo i soliti, diciamo, strumenti che abbiamo anche nell'officina, quindi la possibilità di smontare le gomme, la saldatrice, il martello, il cric, non abbiamo l'elevatore, insomma. Abbiamo la casa, la casa che onestamente non so dirvi a cosa serve esattamente, perché a parte l'ingresso, dove avete il telefono e il catalogo, il resto è un po' fine a se stesso, abbiamo il bagno, ma mi fa pensare che magari in futuro possa diventare un qualcosa di più la presenza di questa casa. Abbiamo il caminetto, insomma, però siamo fuori dal mondo. Quindi nel caso in cui noi volessimo acquistare del cibo, il cibo non c'è, bisogna andare in città a comprarlo, e al momento non ha senso fare questo, secondo me. Soprattutto per chi vuole imparare il gioco e per chi vuole crescere, perché adesso io posso andare con il taxi in città e vedete che qua viene venduto 50.000. 50.000, poi dentro c'è la bacheca che poi ci venderà l'estensione che abbiamo appena fatto. Altra cosa, vabbè, è stato aggiunto un'interessante auto che mi pare che prima non ci fosse, a parte, vabbè, che avete già visto negli altri video, i carrelli che quelli sono una bella aggiunta, che vi permettono di girare con un'officina mobile o di portare l'auto. Avvicinandoci qui, vediamo se c'è la nuova auto in vendita, potrebbe anche non esserci, a parte che qua non ho ancora caricato nulla, ha qualche problemino nel caricare le cose, ok? Non è questa, praticamente è un'auto, o una sorta di pick-up con un, diciamo, un cassone dietro, ed è molto comodo per andare in discarica e prendere i pezzi e caricarli lì. Qua abbiamo la motocicletta classica, c'è anche il chopper, come vi dicevo. E altro, vabbè, sfascia carrozze, quello che abbiamo già visto, che è questo, classico, quindi vediamo se viene dato qualcosa, ma anche qui credo che non sia cambiato tantissimo. Possiamo entrare, normalmente troviamo i vari pezzi, non credo sia... Uh! 40, il tettuccio. Non ho mai capito da... Salve, questo non mi ricordo se c'era. Comunque non ho mai capito il vero senso di venire qui contro la comodità di comprare dei pezzi che comunque costano non tanto di più in realtà. Questa è la nuova moto. Ecco, questa è l'Arley, insomma, il chopper che potete costruire. E qua c'è una serie di pezzi, e mi sembrano anche più pezzi rispetto a... a prima. Cioè, mi sembra un peggio più grande, però ecco, comprare un differenziale qui, 187 magari, che comprarlo... Non lo so, non so a quanto. Però, qua torniamo a casa. Ah, mi ha portato con il differenziale, questo potrebbe essere un bug. O l'ho pagato, effettivamente. Sì, sicuramente. Vediamo un attimo. Differenziale 3.8. Quindi, vediamo un attimo. Qua l'ho pagato 187. Vediamo un attimo quanto, e se vale la pena lo sbattimento di andare a prenderlo lì. Vabbè, c'è questa funzione di ricerca? Differenziale 3.8, 218. Ora, loccato, vabbè, quello che è. Ora, non so se è loc o meno, però, differenziale, ok, se è quello da 218, onestamente, non ne vale la pena. Per la Jessie, diceva. Quindi, vediamo un attimo. Jessie, differenziale, è 3.8, ma non me lo dice. No, sai che forse, se è permesso per la Jessie, potrebbe valerne sì la pena, perché costa così. Sì, quindi in quel caso lì, sì, si pagherebbe meno, ma, al momento, poi magari è una cosa che cambierà, non sappiamo la qualità effettiva, non c'è ancora un modo di poterlo vedere. Quindi, insomma, rimaniamo in attesa, ovviamente è un gioco che vale assolutamente quel che costa, è un gioco che trasluta comunque passione, oltre che olio, e io mi ci sono divertito tante ore. È stato veramente, era stato questo, mi pare di ricordare, un regalo di Ivan, di Pietro, che ringrazio ancora, su cui ho passato comunque veramente tante ore. Sono a 45 ormai. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo aggiornamento, di questo titolo, se vi interessa, andate a recuperare anche i vecchi video, dove gioco effettivamente, facciamo riparazioni, facciamo cose, e io vi saluto, vi rimando, nei commenti, insomma, lasciarmi il vostro parere in proposito. Alla prossima ragazzi, e ciao ciao!